Notizia che per i videogamer come noi potrebbe minare un po' Più che altro per noi appassionati The PES 2018 Ma The PES in generale The PES in generale si Perché ragazzi a quanto pare è finito l'accordo tra Konami e UEFA Champions League De conseguenza Niente più licenze Cioè quest'anno abbiamo fatto dei gameplay su PES Proprio per la Champions e per l'Europa League Che c'erano tutte le grafiche, tutte le cose belle, spisellate E in molti diranno e quindi l'anno prossimo che fate? Ragazzi allora nel caso in cui perché in teoria io credo che dei due videogame più importanti quindi PES e FIFA Uno dei due dovrà averla Se PES ha finito il contratto tra virgolette con la UEFA Credo che molto probabilmente passerà a FIFA Ancora non c'è niente di ufficiale I rumors però sono sempre più insistenti a riguardo Sono insistenti e secondo me FIFA farà del tutto pur di accaparrarselo Anche perché non vedo come la Champions possa rimanere senza uno sponsor tra virgolette Senza un videogame sponsor Esatto perché comunque sono due solamente C'è PES e FIFA A meno che non si riesce a fare C'hanno il monopolio Praticamente rinventano Ronaldo vFootball Sì praticamente fanno un gioco solo per la Champions Se te lo ricordi invece il gioco della Champions League Vuoi fare la Champions League? Come no? Eh te lo ricordi? Come no? Dai Marocchi farlo c'è bellissimo Bellissimo Una cosa di questo Sto scherzando ovviamente c'avevamo originale Pagato 178 euro Ha giocato l'aio Quello infame che ci faceva pagare i videogiochi 300 mila lire Dai su che deficiente che sei E' vero E' la verità Poi scoprivamo che costava molto Non esisteva ancora internet E quindi È capace pure che ci sei Ma sto a scherzare Ma sto a scherzare Ma ovviamente scherzo Forse scherzo Ecco Ma detto questo Appunto WFH Te vi è da ride Te vi è da ride Sì Vabbè Ripeto sto a scherzare La WF Champions League forse passerà a FIFA E in quel caso Che cosa faremo? Ovviamente i pronostici di gameplay Effemminato play della serie A Li faremo su PES Anziché su FIFA E quelli della Champions League Barra Europa League Li faremo su FIFA Eh sì sicuramente Poi è ovvio che Qualora neanche FIFA Dovesse accaparrarsi I diritti per la Champions League Facciamo un po' per uno Come capita capita Mischiamo le carte insomma Sapete che noi amiamo PES Che siamo amanti di PES E che quindi in teoria Prediligiamo Proprio quel gioco Io ho imparato anche molto A giocare a FIFA E ad apprezzarlo A sculare Ad apprezzarlo Ad apprezzarlo A sculare su FIFA ovviamente Quindi ormai Non dico che mi risultano quasi indifferenti Ma No vabbè indifferenti No dai su PES Ci abbiamo un altro manico Sono due giochi bellissimi No no è vero Su questo Guarda sono assolutamente d'accordo Perché PES C'ha delle qualità Che FIFA non ha E viceversa Assolutamente Ma detto questo Noi vogliamo sapere Da voi che cosa ne pensate Nei commenti di questa situazione Non l'abbiamo neanche salutati Non l'abbiamo salutati E che salutiamo Alla fine Poi salutiamo Aspetta Quindi fateci sapere Che cosa ne pensate Nei commenti di questo De questo cambio O che all'ultimo Non teneva Anche perché No secondo me FIFA diciamo che È specializzata in altre cose Barclays Premier League Liga C'ha tutte le cose ufficiali Originali E PES Praticamente C'ha la Ligan C'ha la Redivis Stavo ancora con Non dico con i nomi Dei giocatori modificati Come avveniva Ronaldo Romario E Dino Faggio Però insomma O Roberto Faggio Roberto Faggio Ci stanno in certi casi Però comunque Manca qualche squadra importante Però ragazzi Forse non lo sapete Ma a noi ci interessa Il gameplay E siccome da quando Eravamo piccoli Per chi non Se lo ricorda PES all'epoca Non era Ispra 98 Cioè Ispra 98 Era una quasi simulazione De calcio Paragonata International Superstar Soccer Però Ragazzi Paragonato a FIFA dell'epoca FIFA doppio cerchio Cross doppio cerchio Rovesciata Segnavi sempre Cioè FIFA era un arcade Sempre con tutte le licenze Però noi abbiamo sempre Preferito il gameplay E per quello Siamo rimasti affezionati Ma non per questo Giociamo con l'occhi da pati E facciamo solo PES Credo che ve ne siate resi conto De conseguenza Ripeto Fateci sapere che cosa Pensate nei commenti Che cosa comprerete quest'anno FIFA 19 O PES 19 Anche perché ormai La scelta è quasi vicina Siamo alla fine Anche se ancora Non è trapelato nulla Quindi De solito uno è anche Attirato dalle novità Che i videogame E uno E l'altro propongono Quindi Ancora bisogna vedere bene Ma detto questo Fateci sapere che cosa Pensate nei commenti Quello che comprerete Se comprerete entrambi Come faremo noi Vi dispiace Per i grafichi da Champions League Non saranno più gli stessi Pronostici effemminato play Senza chess Commentate Condividete Iscrivete al canale Ci vediamo alla prossima Con un nuovo video Credo più tardi Se riusciamo Stasera pubblichiamo i pronostici Sì perché oggi è una giornata Veramente impegnatissima Chichina Potremmo portare Sulla Champions Pierluigi Cazzo E Stefano Fava Mamma mia ragazzi miei Bella E Stefano Fava Grazie.